Fantastici, eccezionali, Raymond Bridge, un applauso, dei rulli compressori, incredibile, da Barletta sono venuti, di più, di più, Fabio Chiarazzo al basso, Fabio Chiarazzo, Paul Samro Ormas, Paolo Ormas, batteria, Giuseppe Gimmi Rai Piazzolla, chitarra e voce, Giuseppe Piazzolla, ancora una? Sì dai, un'ultima, vi ricordo che domani la serata è confermata, anche in caso di maltempo ci spostiamo all'interno, abbiamo tre band, abbiamo i Blues Bark, Samojo Gator Boys, Reverend T and the Blues Society, domani confermato all'interno se piove, e poi abbiamo altri due weekend, 13 il 14 e il 20 il 21, con tante band, abbiamo Mauro Spiga, Agostino Raimo, Yander Bridge, Mr. No Money e tanti altri, quindi non mancate, ancora una? Rainbow Bridge, ah e vi ricordo che ci sono i loro cd in vendita!